Un dovere di tirar fuori il cartellino Eh sì, perché c'è stata la trattenuta inizialmente Cambiasso Ibraimovic Nettamente ritardo, Mexese che è già stato ammonito Si frontesero i due, c'è stato anche un colpo di Mexese Ci sono affrontati L'accenno di reazione di Ibraimovic Il resto c'è anche Berrotta Che è venuto su Cambiasso e credeva all'intervento del quarto uomo Eh sì, anche perché c'è stato un colpetto di Mexese a Ibraimovic Prima da dietro, l'abbiamo appena rivisto Ecco, arriva Menese Ma non inquadrato, c'è stato il colpetto di Mexese a Ibraimovic Che ha raggito L'intervento del francese Attenzione, siamo a rivisitarlo queste decisioni Da quattro minuti di recupero Calcetto di Mexese intenzionale ebrei